Musica E salve a tutti da PierDarkNight91, ci ritroviamo in Rainbow Six Siege Allora sono arrivato al livello 4, ho migliorato determinate armi Allora vi faccio vedere, ok? Allora, mi avete detto, fai una partita con il cecchino Eccolo qui il cecchino, la dotazione l'ho migliorata tantissimo Gli ho messo un mirino olografico perché è l'unico che mi trovo bene Perché non mi intraccia la visuale, ma mi fa vedere in modo perfetto Adesso ve lo faccio vedere No, non ho messo l'olografico, ho messo questo Adesso vi faccio vedere Scherbo intero, eccolo qui Ho messo questo mirino Quindi una partita la faremo in attacco con il cecchino Ho migliorato poi anche le armi degli assalitori Principalmente ho migliorato Oltre, vabbè, il cecchino che vi ho fatto vedere Anche questa seconda arma, il fucile d'assalto L'ho migliorata al massimo E ho migliorato anche il nostro difensore Visto che nell'ultima puntata mi sono trovato abbastanza bene Con questo shotgun semi-automatico Gli ho messo un bel mirino olografico come sempre E ho migliorato anche la gittata, il rinculo e tutto il resto Adesso è leggermente migliore Vediamo di riuscire a fare una gara leggermente migliore Ho sbloccato, visto che siamo arrivati al livello 4 Ho sbloccato una nuova sfida E' quella di vincere 5 partite multigiocatore Ci darà 350 di denaro Che serviranno sempre per spendere in miglioramenti Comprare assalitori e difensori Andiamo nella partita multigiocatore Appena trova questa partita libera Ci vediamo Ed eccoci qui Noi siamo la squadra blu contro la squadra arancione Allora vediamo se partiamo subito con un round già iniziato O partiremo dal round 1 No, round 1 Quindi attaccheremo nel round 1 Allora io direi Visto che questa mappa non so se la conosco Iniziamo con il teacher E poi nelle prossime faremo una partita con il cecchino Allora mettiamo quest'arma che ho migliorato Per vedere se è migliore della prima E spariamoci subito questa prima prima gara In attacco Speriamo che i nostri compagni di squadra siano bravi E non mi facciano innervosire se no li suicido tutti Li ammazzo tutti Ed eccoci qui Siamo con la nostra telecamerina a drone Vediamo se conosco questa Questa mappa Mi sa di sì Mi sa di sì Ah ci hanno già preso Non ho potuto vedere nulla Vediamo da Eccolo qui un altro Mi sa di sì 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 la conosciamo La conosciamo se non sbaglio Non lo so vediamo Eccoli qui Ok Hanno preso anche questo Va bene Andremo diciamo tutti all'attacco Adesso Mancano otto secondi alla fine Poi partirà questo match Questo primo round Preso anche questo Via Ed eccoci qui Siamo in fase offensiva Con i nostri antiterroristi Speriamo di fare un ottimo Un ottimo match Allora partiamo subito da qui Dai Attenzione Oh oh Ah mi spavento Ok stiamo attenti Piano piano Ieri mi sono allenato Un pochetto Sono uscito a salire A livello 4 Eccolo lì L'albero di Natale Adesso ci sta Una bella canzoncina Di Natale Vediamo se hanno trovato I nostri Terroristi Sono stato individuato Da chi Attenzione Eccolo lì Sta sparando Stiamo attenti Stiamo attenti Secondo me sono qui sopra Non vorrei dire una cavolata Ma secondo me sono qui sopra Vediamo Attenzione C'ho paura Cambio caricatore C'ho paura ragazzi C'ho paura Si sentono spari E' molto uno dei nostri Mannaggia Io non riesco a trovare mai nessuno Siamo attenti Quatti 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 Dobbiamo andare Secondo me sono qui No Qui è fuori Piano piano Sono qui? Si mi sa di si Sono qui secondo me Sono qui secondo me Oh chi è? Mannaggia Ci hanno fatto Mannaggia Io pensavo che erano giù invece No La mia fine Questa è la mia morte Ci hanno fatto in due E quindi partiamo malissimo Partiamo malissimissimo Andiamo a vedere Se il nostro compagno Qui di squadra Che brutta fine Che brutta fine ha fatto Con la telecamera Mamma mia Che precisione poi Ragazzi Con il cecchino Ok Adesso andremo A difendere Allora Non possiamo prendere il cast Perché ce l'hanno già preso Quindi andremo a prendere Un difensore qualunque Oh mio dio Eccolo qui Fucile a pompa Mannaggia No Questa non ci voleva Perché adesso Ce l'hanno già preso Il cast E adesso Questo non ci voleva Ragazzi Perché Non ho le armi Potenziate Quindi ci troveremo Con un'arma Con anche un mirino Schifoso Speriamo comunque Di riuscire a fare Una decente partita A differenza Del primo round Che abbiamo fatto cacare Stavamo lì A aspettare Che qualcuno usciva Lì sotto Invece ci hanno preso Da dietro Ok Eccoci qui Andiamoci A chiudere Se si può chiudere Qui no Ok Chiudiamo Ma non si può chiudere Dai dai Chiudiamo tutto Sì ma adesso Non venite a rompere Uno L'abbiamo messo Piazziamo pure Questa barricata Babbione Ho messo la carica Maledetti Oh Dai Sta fortificato No Adesso è rimasto fuori Vabbè Allora stiamo attenti Belli Calmi Calmi Ecco che arrivano I primi spari Se non sbaglio Attenzione Ecco qui Fatto 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 Ok Ok Il primo L'abbiamo fatto Mamma mia Sono davvero Troppo Bravo Mamma mia Che uccisione Adesso andiamo a fare gli altri Da dove Ma che brutta Fia Cioè quello mi ha guardato Tranquillo Aspettato il momento Mannaggia Abbiamo fatto un'uccisione però ragazzi Peccato Stavamo andando bene Abbiamo fatto anche esplodere La nostra carica Ok Due contro tre Stanno già super vincendo Mannaggia Eccolo lì L'ha segnato Perché guardi da là Sta lì L'ha preso Buona 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 così Adesso ce n'era un altro qui Se non sbaglio Attenzione Dai Dai che ce la facciamo Dai che ce la facciamo Forza Mamma mia Che tensione ragazzi Vinto Abbiamo vinto il secondo round Bene 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 Andiamo a proiettarci Nel terzo round E qui vediamo la morte Bravissimo Ok Terzo round Andiamo Allora Non possiamo scegliere il cecchino Perché L'hanno già scelto Quindi io prenderei Di nuovo Il teacher E proviamo così Come potete vedere Il primo A sinistra Ha scelto il cecchino E quindi io non lo posso scegliere In questo gioco Allora Siamo qui con Il nostro drone Come sempre Vediamo di infilarci Da qualche parte Se capisco Dove si entra Ecco Ci siamo infilati Speriamo Mancano 30 secondi Vediamo di prendere Qualche nemico Disegnarlo Niente Non li trovo Non li trovo Come sempre Ok andiamo Allora Io direi Di passare Dai tetti Oh no ragazzi Passiamo dai tetti Allora saliamo Dai Stiamo attenti E qui non c'è nessuno Saliamo ancora Sono stato individuato Maledetti Oh Attenzione Fatto 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 Maledetto Non c'è che nervi Pensavo di averlo fatto Ci ha buttato La nitro E ci ha ammazzato Mannaggia E col fucile Col fucile a pompa È molto più facile Prendere Mannaggia Ancora un round Di merda Sta lì Sta lì Sta sì Non l'ha visto Madonna mia Rambo 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 Ah peccato Uno contro uno Vediamo chi vince Vediamo chi vince Uno contro uno Dai dai Ah questo L'ha fatto L'ha fatto Terzo round Vinto Adesso Dobbiamo vincere L'altro Per essere Definitivamente Campioni Forza Mamma mia Che round Questo Io Ho fatto schifo Come sempre Vediamo di riuscire a prendere Ce l'ha già fregato Madonna mia Ce lo fregano sempre E riprendiamoci Questo La SWAT Incredibile Mi fregano sempre Il castle Volevo giocare Un po' più di Fucilone A pompa Migliorato Non lo posso fare Speriamo di nuovo Qui Speriamo di fare Un ottimo Ottimissimo match Speriamo la barricata E partiamo subito In fase difensiva Ci mettiamo Una bella bombicina Qui Così Se Vaffanculo Deve mettere le cose sue Ma non Dai Piazza la barricata L'ho ucciso fuori Ok Stiamo attenti Io sento il rumorino Di quei maledetti Uh Grazie Raccogliamo la corazza Ok Eh non sto In una buona posizione Ok ci mettiamo qui Ci mettiamo qui Belli Stiamo attenti Stiamo Attentissimi Abbiamo anche la corazza Occhio Non lasciamo le posizioni Le posizioni Non lasciamo le posizioni Ecco Prova a sparare da sotto Dai venite qui Uno abbandonato Mannaggia Occhio Sta qui Sta qui Sta qui Devi entrare Devi entrare Mancano due minuti Deve entrare E io poi Li faccio la festa E lei No Non incominciare a metterti avanti Ecco Io ti ammazzo alla fine Vi ammazzo Figli Non si mettono avanti Ok Round vinto Non abbiamo fatto nulla Avevo messo pure Una bella carica Ok Abbiamo vinto 3 a 1 Anche questo Match Vinto Anche questa gara vinta Ragazzi Siamo arrivati Al terzo posto Ok Torniamo al menu Quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Mettete sempre un like Condividete E commentate Ciao a tutti Da Pierdarkknight 91 Ciao a tutti